Quando pensi di aver raggiunto il successo, crolli. Quando invece credi di aver toccato il fondo, è lì che vinci. Mi chiamo Marco Mazzoli, ho 43 anni, professione DJ. Da oltre 16 anni conduco il programma più folle d'Italia, Lo Zodi 105. Vorrei che lei scrivesse un'autobiografia di Marco Mazzoli. E' dello Zodi 105. Una breve pausa musicale e poi sarete qui di nuovo con me. Tutto il mio tempo era dedito solo e unicamente alla radio. Poi un giorno... Faccio da Pirla! Te la senti di sostituire il tuo amico del cazzo? Io? Thank you, Luca. Cosa stai scrivendo? Ero troppo piccolino. Tema. Ah, un tema, eh. Per godermi qualsiasi cosa. Come ci chiudono? Facciamo interferenza con l'aeroporto! Passai da una radio locale all'altra. Ti presento il nostro tesoro. Ragazzi, io volevo l'amore. Avete presente quelle storie piene di momenti indimenticabili? Proprio come questo. Che serata, ragazzi. Avevo incontrato l'amore della mia vita e Claudio Cecchetto mi voleva con lui. Seguimi. Allora mandatemi tutti i modi strani con cui chiamate il vostro amicone. Il pisello! Fu un delirio. Sei impazzito? Quello chi ha? Io lo voglio nel mio programma. Leone di lernia. Che culo che c'hai. Farai successo. Avevo un piano diabolico. Ci vuole un bel pompone in diretta. Un pompino nella mia radio. Cosa l'ho fatto di male? Tipico scazzo che precede una separazione. Tre. Se hai un sogno, inseguilo. Uno. Proteggilo. Realizzalo. Ti amo, amore mio. Da vostro Marco Mazzoli è tutto. On Air. On Air. Storia di un successo. Dal 31 marzo al cinema.